Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A12 per lavori è chiusa l'entrata di Rosignano Marittimo in direzione Livorno. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento a 1 di Firenze in prunita. Sulla Fipili per lavori di messa in sicurezza del viadotto Ponzano, restringimento di carreggiata tra Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo, catene da neve o pneumatici stagionali. La viabilità cittadina a Firenze oggi si corre la Alf Marathon, partenza alle 9, provvedimenti di sosta e mobilità per l'evento. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!